Ufficializzato il Consiglio di Amministrazione dell'Unione Sportiva Lecce, presidente Savino Tesoro, vice letterio Munafo, di origini salentine ma da tempo residente in Lombardia. I consiglieri sono Antonio Tesoro, il quale ricopre anche la carica di amministratore delegato, Savino Vigilante, Luigi di Roma e Antonio Fiocca. La squadra giallorossa intanto proverà a regalare al presidente un'altra vittoria, conservando così l'imbattibilità. Se l'Aprilia, avversario di questa sera, uscirà battuta dal Via del Mare, il Lecce sarà l'unica squadra italiana tra i professionisti a conservare la propria imbattibilità. Il tecnico giallorosso Lerda pensa anche al campionato, alle prossime due sfide esterne, domenica a Pavia e mercoledì a Lumezzane, tanto che ha preferito non convocare alcuni calciatori che sicuramente saranno protagonisti in campionato. Il portiere Benassi, i difensori Esposito e Diniz, i centrocampisti Giacomazzi, Bogliassino e De Rose, l'attaccante Pia, considerando che per il reparto avanzato l'allenatore giallorosso non può contare su Cevantone e Geda, ancora non al meglio dopo i rispettivi infortuni. Inoltre Falco ha risposto alla convocazione della nazionale di Lega Pro. C'è attesa per vedere all'opera l'Aprilia, capolista del girone B di seconda divisione, ma anche per quelle che potrebbero essere le scelte di Lerda. Sul terreno del Via del Mare si potrebbe vedere all'opera, tra gli altri, Bustamante, piccoletto ma dotato di buona tecnica. Tuttavia si rivedranno in campo Chirico e Foti, assenti nell'ultima uscita di campionato perché squalificati e complice il rinvio per neve di Lumezzane, lontani dal terreno di gioco della trasferta di Trapani. Nonostante le numerose assenze, Lerda non dovrebbe rinunciare al collaudato 4-2-3-1. Tra i pali della Porta Giallorossa potrebbe rivedersi Petracchi, davanti al quale agiranno Semenzato, Vinicius, Di Maio e Legittimo. Il rientrante Memusciai e Zappacosta formeranno la principale diga di centrocampo, mentre Bustamante, Malcore e Chirico si muoveranno alle spalle di Foti, tuttora capocanonire del campionato. Arbitrerà la partita la Cagnina di Caltanissetta, fischio d'inizio alle 20.30.